Ciao a tutti amici di Non aprite questo blog, qui è il GONZ, mi sto dirigendo alla Games Week Cartoon Mix, guardate tutto il video, vediamo che cosa salta fuori, sto andando lì per incontrare un po' di streamers, vedere un po' di videogiochi, films, se riuscirò vedrò The Well di Federico Zampaglione in anteprima e chissà, vediamo poi, a dopo. Grazie a tutti. Riesci a rampicarti sul muro? Scusate, mi spiace. Scusate, mi spiace. Guarda, c'è Anna. Ciao, ciao, come stai? Grazie a tutti, dai. Che dici? C'è posto? Sì, anche, pure tu, vai. No, no, è un live. Ah, è un video, è un video, video ricordo. È un video, è un video. Ciao, ciao. Ciao. Tutto bene, voi che dite? Bene, bene. Fammi riprendere il VIP. Ciao, belli. Insieme, insieme. Che carini. I congiuriani best friend. Tanto. Ah, scusate, allora a te. Beh, facciamo una cake bang, allora. Facciamo vedere che sei vivo. Cosa devo dire? Che capelli ho? Ciao, ragazzi. Vieni, vieni qua. Una foto video, una foto video. Questa è un'intervista su questa domanda, è una nuova forma di art. Questa è un'intervista su questa domanda. Sto lanciando tutto forno. Cercavo Kubrick, qua? Ad entrare con i cucchiaini. Sì, sì, cani e forci. Giù, 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 giù. Ma voi vi ho ripreso prima di nascosto? Ma non lo sapete. Sì, sì, io riprendo tutti di nascosto. No, vai. Hola. Ciao, amici, collezionisti e non. Piaciuto? Non si può dire niente. Non si può dire niente. Non si può dire, non si può dire niente. No, adesso ci... No, non si può dire niente. No, non si può dire niente. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Dopo due giorni di Games Week, Artuvix e soprattutto Fantastico Film Fest Bello, faticoso ma bello Mi sono girato tutta la fiera Mi sono incontrato con degli amici di Twitch Joba, Mivens, Junkel Insomma è stato veramente figo Sono venuto a vedere The Well Il film di Federico Zampaglione Al Fantastico e soprattutto adesso Sono appena uscito dalla presentazione Dalla premiazione Anzi a dare argento Al festival Appunto a questo nuovo festival C'è stata una lunga chiacchierata con il maestro Molto simpatico Mi sembra un piacere sentirlo E' stata una cosa molto bella Ci rivedremo probabilmente con un video simile a questo anno prossimo Probabile Perché il Fantastico Continuerà Continuerà qua E quindi io tornerò a vedere i film A vedere i videogiochi Eccetera eccetera Quindi se il video vi è piaciuto Iscrivetevi al canale Mettete like Lasciate un commento E soprattutto seguitemi su Twitch E neacobi Yo Ciao Ciao